Superate la fase più acuta della pandemia, non calano gli infortuni sul lavoro di tipo tradizionale. Emerge dalla relazione annuale dell'INAIL presentata stamattina a Roma. Ce ne parla Anna Scafori. Gli infortuni sul lavoro non diminuiscono. Emerge dalla relazione annuale dell'INAIL presentata a Palazzo Montecitorio. Dopo gli anni più difficili della pandemia, le denunce di infortuni sul lavoro di tipo tradizionale nel 2021 sono aumentate del 20% rispetto all'anno prima, se si escludono i casi di contagio da Covid-19. 1.361 i decessi denunciati, più 10% sempre al netto del Covid-19. E tra gennaio e maggio 2022 ancora più numerose le denunce di infortunio, 364 con esiti mortali. Il presidente dell'INAIL Franco Bettoni, presentando la relazione, ha sottolineato il ruolo del PNRR per migliorare la prevenzione, puntando su formazione e cultura della sicurezza. L'istituto ha messo a disposizione del proprio patrimonio di competenze e esperienze nella sfida per l'attuazione del PNRR. L'iniziativa più rilevante, ha spiegato Bettoni, riguarda l'avvio di collaborazioni permanenti con grandi gruppi industriali impegnati negli interventi previsti dal piano, come quella siglata dall'INAIL con le ferrovie dello Stato. Il rischio cresce dove il lavoro è più precario e dove l'inquadramento contrattuale è peggiore, ha detto il ministro del Lavoro Orlando. Urgente una riflessione anche sul modello di competizione che un paese sceglie, ha concluso. Il nostro non può permettersi di competere solo con una riduzione del costo del lavoro. Grazie.